Allora, due partite quest'oggi da commentare e poi stasera ci getteremo sul Napoli e sulla Lazio. Ragazzi, la Juventus che affronta il Bologna per dare una continuità a quello che aveva fatto alla prima giornata, spoiler, a livello tecnico a mio avviso non lo ha fatto, e la Fiorentina per dare una continuità a quello che aveva fatto alla prima giornata. Spoiler, a livello tecnico tutto sommato, specialmente nel primo tempo, lo ha fatto, ma partiamo da una cosa molto importante, siamo in questo momento a 487.826 iscritti, se arriviamo a 488.000 iscritti prima di domani alle 10, domani alle 10 vi faccio le pagelle della Juventus, perché ce ne è bisogno e ho tanta tanta roba da dire. Detto questo, gettiamoci su Juventus Bologna. Allora, poteva essere questa la seconda formazione uguale dell'Allegri Bistro, non so se lo sapete, da quando Allegri è diventato allenatore della Juventus per la seconda volta, quindi nella seconda parte, ha sempre messo in campo formazioni diverse, sempre, sempre, tipo, non lo so, ho letto la stagione l'altra volta, 132 formazioni, c'è 132 diverse, c'è una cosa del genere, qualcosa di questo tipo qua. Fatto sta, fatto sta, che anche stavolta, alla fine non è stata premiata la voglia e la possibilità di mettere due formazioni uguali. Perché? Perché manca Cesni e già di per sé questo, insomma, era un esempio, era una possibilità, quindi era chiaro poi che avrebbe giocato Perin. E poi c'è il discorso di Miretti, che stavolta non gioca, al suo posto va a giocare invece Fagioli, quindi gioca Miretti, non gioca Fagioli, e quindi la Ju... Anzi, gioca Fagioli, stavolta non gioca Miretti, l'altra volta aveva giocato Miretti, non viceversa, e quindi la Juventus cambia ancora e ancora una volta la formazione titolare. Fatto sta che questo non è centrale, la titolare ancora cambia e va bene tutto, la Juventus mi è parsa completamente diversa. E mi è parsa completamente diversa soprattutto dal punto di vista dell'intensità di gioco. Cioè, è una Juventus che a differenza della gara di Udine, dove andava in avanti e si gettava alla ricerca della vittoria, dei tre punti, della caparbietà, dimostrava di avere caparbietà nel cercare la vittoria, questa volta questa cosa non c'è. E la Juventus che affronta il Bologna in casa è una Juventus molto più sopita, potremmo dire molto più paziente, no? Perché da una parte, se tu guardi per 90 minuti una squadra paziente che però sa colpire, quando deve colpire, sono il primo ad alzare le mani e a dirti, vabbè, di che parliamo? Cioè, è stata brava la Juventus, ma qui non è stato un discorso di essere brava la Juventus. Qui più che di pazienza si parla di una Juventus sopita, di una Juventus che per 60 minuti ha dormito in piedi e per 60 minuti non è praticamente funzionato niente all'interno del mondo bianco-nero, all'interno di quella che è stata la partita della Juventus. Poi, un Bologna però che è uscito, ha cominciato a giocare a pallone, ha cominciato ad attaccare, perché insomma Tiago Motta fa giocare bene le sue squadre e questa non è una novità. Lo sappiamo tutti, conosciamo benissimo tutti quanti Tiago Motta, e quindi è uscito il Bologna ed è arrivato il gol del vantaggio. Gol del vantaggio tra l'altro che arriva da un Zirk Z che fa un lavoro ottimale, serve Ferguson che rimane anche un pochino indietro, poi la prende la palla, la butta in porta e quello è il gol dell'1-0, il gol del vantaggio del Bologna. Molto inaspettato chiaramente, io vi dico la verità, per me Allegri ci sta prendendo per il culo tutti. Cioè io veramente non riesco a capire, no? Poi adesso continueremo a parlare, il pareggio, poi quell'altro, poi il gol annullato, anzi prima il gol annullato, poi il pareggio, insomma tutto quello che è successo, perché insomma è successa tanta tanta roba. Però secondo me Allegri, io ve lo dico proprio con grande tranquillità e chiarizza, ci sta prendendo per il culo a tutti quanti, perché io altrimenti non me lo spiego. Cioè io nella prima partita ho visto una Juventus veramente ragazzi che, ora non è che sembrasse il Manchester City di Guardiola, però seguiva quei dettami tattici lì. Ora Luca Toselli ha fatto anche un video nel quale lo spiegava per bene. Già vedendo l'impresa diretta mi sembrava appunto che avesse, diciamo, instaurato un tipo di gioco molto simile a quel gioco delle grandi di Premier, no? E quindi io dicevo, brava la Juve, brava la Juve. Poi Toselli ha fatto un video, che saluto Toselli, nel quale appunto andava nel dettaglio a parlare di ogni situazione simile, la Juventus o il Manchester City con i vari giochi, eccetera. E lì ho detto, cavolo, avevo ragione, quando mi era sembrato, insomma ha visto che lui poi è Juventino, ha fatto delle ricerche, eccetera, avevo ragione. E lì la Juventus, ragazzi, era una Juventus impeccabile. Io, tra l'altro, nel post partita lì mi sono permesso di dire quest'anno, Allegri fa il culo a tutti. Ora non è che ho detto proprio così, ma diciamo che l'idea era quella lì. Cioè, di un Allegri che mangia in testa gli altri. Perché? Perché si è preso due anni di nulla cosmico, nel quale però la Juventus costruiva, perché la Juventus con Allegri da campionato non è mai arrivata sotto il quarto posto, quindi una Juventus che costruiva, aveva tenuto i giovani, aveva un buon gruppo, e adesso iniziava anche a giocare bene a pallone. Ecco, questo mi sembrava quello che avrebbe portato la Juventus a potersi sognare lo scudetto quest'anno, ok? Però poi quello che abbiamo visto oggi, ragazzi, è una cosa indecorosa. Cioè, è una Juventus che, ripeto, non è che riposa, non è che è una Juventus che pazienta, è una Juventus che è sopita, è una Juventus che dorme, è una Juventus dormiente, e non va bene assolutamente. Poi di contro, non facciamo, lo dicevo ieri nel post-partita sul secondo canale tra Frosinone e Atalanta, non facciamo il gioco di l'Atalanta gioca male, quindi il Frosinone ha vinto, no. Cioè, parte vabbè, ma il Bologna non è che, diciamo, approfitta di una Juventus che gioca male, perché se la Juventus non gioca da Juventus per tutto il primo tempo, e qua ci stiamo limitando a parlare del primo tempo, nel secondo è tutta un'altra storia. Cioè, nel secondo si parla di una... Ma aspetta un attimo, aspetta un attimo, andiamo per gradi. Parliamo un attimo del Bologna. Il Bologna, ragazzi, gioca a pallone. Cioè, il Bologna non guarda la Juve e basta. Il Bologna gioca a pallone, il Bologna gioca a calcio, il Bologna crea le sue occasioni, Tiago Motta ha delle ottime idee, e il Bologna gioca bene, seguendo le idee di Tiago Motta. È per questo, è per questo che poi la Juventus porta a casa... Eh, sì, è per questo che poi il Bologna porta a casa dei risultati, non ce la faccio a parlare, dei risultati utilissimi durante l'anno. È per questa ragione qui. Una Juventus lenta nel giro. Palla, una Juventus nelle verticalizzazioni molto, molto, molto lenta, con poche idee. Dall'altra parte, un Bologna che fa due linee precise, difensori e centrocampisti, e questo praticamente non permette mai, e sottolineo mai, alla Juventus di arrivare al ridosso dell'area di rigore. Non permette mai alla Juventus di crearsi occasioni pericolose, se non in qualche occasione di cui dopo parleremo, a livello anche arbitrale, eccetera. E questo è, sostanzialmente questo accade. Nel secondo tempo la Juventus cambia. Va a cercare, va a trovare, poi in realtà il pareggio con Dusan Vlaovic, lo trova, grazie a un gran gol, forse su un'idea di Bremer, mi pare, ora vado un pochino a memoria, mi pare su un'idea di Bremer, poi me lo riguarderò. Va a trovare questo gran gol, però lì poi, io lo dico sempre, quando deve andare di merda, va di merda, no? Perché poi il pallone viene dato dentro, tira, Skorupski non l'avrebbe presa nemmeno su 14 pianeti diversi, però lì per lì c'era un Adrien Rabiot che passeggiava davanti al portiere e quindi è stato annullato. È giusto. È giusto che venga annullato quel gol. È giusto tutta la vita che venga annullato quel gol, perché purtroppo per la Juventus Rabiot passava in fuorigioco. Però chiaramente io comprendo e capisco anche i nervosismi da parte dei tifosi della Juventus per una situazione clamorosa in cui quello lì non incide per niente nell'azione. Però ragazzi, questo è, ovviamente questo andiamo a sottolineare. Devo dire anche un'altra cosa che, vabbè, dopo un'ora, e questo lo sottolineo che a me sinceramente non lo so, io una volta lodo e una volta sbrodo allegri. Non riesco a dirvi dopo 60 minuti di nulla cosmico la Juventus non ha fatto ancora un cambio. Nessuno. Nessun cambio. Non ha fatto ancora nessun cambio la Juventus dopo 60 minuti di nulla cosmico. E questo secondo me è un dato preoccupante. Cioè, ma a te come ti salta in mente di non andare a cambiare nulla quando non riesci a fare niente? Ma che cosa stai aspettando? Ma se non ti riesce nulla, sei giocato a Torino, a meno che questo non sia il tuo sistema di gioco, una 12 mesi è il mio sistema di gioco, io gioco così e va bene. Ma se questo non è il tuo sistema di gioco, se la tua idea è quella di andare a prendere la squadra avversaria nel centrocampo avversario come hai fatto alla prima gara, tra l'altro, quindi non mi sto inventando nulla. Se la tua idea di gioco è quella di giocare a pallone, di fare passaggi, verticalizzazioni, velocizzare il fraseggio, ma come fai in 60 minuti di niente a non cambiare nulla? Santo iddio. Per me è una cosa realmente impensabile. Per me è una cosa realmente impensabile. Poi voglio aggiungere un'altra cosa e questo anche lo sottolineo. ora io non so allegri che tipo di fetish abbia per Alexandro, però ci sono delle cose che mi fanno, mi facevano l'anno scorso e mi fanno tuttora pensare ad una mancanza di progettualità e ve lo dico con grande chiarezza perché la Juventus per me alla base avrebbe una grande progettualità. Poi però vediamo alcune cose tipo Alexandro. Cioè, uno, la Juventus tutti i gol che prende la prima giornata, la seconda giornata, cioè, apprende sempre gol, l'ha preso con la prima giornata, mi pare sempre sì, sempre da parte di Alexandro, sempre da parte di Alexandro. Quindi tu non so perché continui a far giocare a Alexandro e Gatti ormai l'hai panchinato che per me non ha senso visto che Gatti stava facendo vedere belle cose l'anno scorso, l'hai panchinato, l'hai messo lì, non gli abbiamo fatto vedere il campo, non capisco perché, non ne capisco il motivo e va bene, punto uno. Punto due, una settimana fa hai provato, hai fatto di tutto per svincolare Alexandro, per trovare un accordo di rescissione. Ora tu dirai, vabbè, già che ce lo faccio giocare. Sì, ma se tu lo volevi rescindere non puoi vederlo così centrale nel tuo sistema di gioco e lo faccio giocare ma non super titolare inamovibile e questa è una cosa che non capirò mai. Poi, un errore secondo me da quello che ho visto io per parte a livello di arbitraggio c'è un rigore nel primo tempo o inizio secondo, non ricordo, per la Juventus dove uno del Bologna no, non mi ricordo chi è, non mi ricordo chi è, la prende di mano in area di rigore con la mano a terra e voi direte, vabbè, ma non è che poteva togliere la mano? Regà, se la palla sta andando per terra e tu c'hai la mano poggiata lì mentre scivoli, la palla becca la mano e la palla si ferma è normale che quello è calcio di rigore e lì per me c'era un rigore solare per la Juventus e poi mi sembra rigore anche l'altro, cioè mi sembra rigore anche quello per il Bologna quello in cui arriva il giocatore arriva Andoglie del Bologna a me Andoglie mi viene mai in mente il nome arriva Andoglie del Bologna calcia con appunto Perin che fa un miracolo e in quell'occasione il Ling Junior mi pare a me che prenda solo il giocatore lì per me quello è un altro rigore solare che non viene fischiato e personalmente non ne comprendo il motivo cioè non comprendo il motivo per cui quel rigore lì non venga fischiato come il primo anche il secondo per me quelli sono due errori abbastanza solari se posso essere sincero fatto sta che il problema della Juventus non sono i calci di rigore non sono è che la Juve è troppo episodica cioè tu non puoi aspettare non puoi aspettare 90 minuti cercando un gol su un'azione su una punizione su un calcio di rigore su un calcio d'angolo su un qualcosa che succede perché magari oggi ti va bene domani ti va male che poi se arriva il risultato siete tutti contenti e ci stai magari va a bracciali tutti e va tutto per nella stessa direzione però però essere così tanto episodici essere così tanto episodici non porta mai niente di piacevole e di positivo voglio aggiungere un'altra cosa che per me è fondamentale ovvero che io quando Allegri ha messo Pogba ho pensato ma questo che cazzo fa cioè nel senso tu non fai cambi per 65 minuti 67-70 minuti il primo cambio che fai mi pare che l'ha fatto al 66esimo è mettere Pogba Pogba che non si regge in piedi ok tu hai detto è in condizione ma insomma non si regge mai in piedi cioè tu devi fare uno sforzo fisico sovraumano e metti Pogba però poi alla fine ha avuto ragione Pogba entra scodella benissimo per il Ling Junior il Ling Junior trova al centro Dusan Vlaovic e quello è il gol del pareggio della Juventus che riacchiappa la partita perché un conto è perderla una partita un conto è pareggiarla con poi giocare i 20 minuti finali un quarto d'ora poi con presi di recupero che ne danno sempre un botto nel caso della Juventus ne hanno dato 7 minuti di recupero un conto è questo un conto è l'altro secondo me e oggi abbiamo visto un Pogba sicuramente molto buono che se fosse questo Pogba potrebbe secondo me essere un punto a favore molto importante per la Juventus per quanto riguarda la Fiorentina una parola e mezzo al volo ma non voglio parlare della Fiorentina vi dico una parola e mezzo al volo perché vi dico giusto che ne parlerò stasera cioè stasera quando faremo il post partita di Lazio e di Napoli ne parleremo parleremo della Fiorentina perché comunque visto che la Fiorentina finisce finiva molto più tardi rispetto che la Juventus aveva circa 7-8 minuti di ritardo ho preferito andare a registrare perché adesso mi devo sposare ad andare a vedere l'altra partita ma nel frattempo poi mi recupero gli ultimi 7 minuti ho visto che stavano vincendo 2-1 ma poi hanno preso il 2-2 quindi poi ne parleremo stasera ci dedicheremo un bel paragrafetto alla Fiorentina quindi ne parleremo con grande tranquillità stasera perché adesso aveva poco senso insomma inserirla brevemente nel video della Juventus dove secondo me c'era veramente tanta 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 carne al fuoco finisce 1-1 il secondo impegno stagionale della Juventus il primo in casa Juve con 4 punti il Bologna blocca la Juve sul pareggio fatemi sapere la vostra iscrivetevi al canale io vi ringrazio tantissimo mi piace buo ce l'allene come sempre ci vediamo un prossimo video grazie a tutti